Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la clausura, questa è la cella numero 5 di Padre Pio, la sua cella fu la prima cella quando arrivò qui a San Giovanni Rotondo nel settembre del 1916, fu la sua residenza fino al 1943, quando poi ebbe la possibilità di avere un'altra cella e quindi questa fungeva come il suo studio, la cella numero 1. E poi qui abbiamo la cappella interna, il Sacellum, dove Padre Pio, così come tutta la fraternità e anche oggi la fraternità di San Giovanni Rotondo, vengono qui a celebrare l'Eucarestia, un luogo ricordato proprio per quei due anni trascorsi in segregazione, la cosiddetta segregazione di Padre Pio dal 31 al 33. Oggi da questo luogo vogliamo raccontarvi quello che è accaduto proprio in questo corridoio. Parliamo di Padre Luigi Irzio Magliacani, che è stato un missionario cappuccino in India e futuro vescovo vicario apostolico d'Arabia. Perché futuro? Perché il fatto che stiamo riferendo fa riferimento al 1948. Infatti lui prese possesso e divenne vicario apostolico d'Arabia dal 25 dicembre del 1949 al 4 novembre del 1969. Lui si trovava in Italia in quel periodo proprio per una visita alla sua famiglia, prima poi di ripartire immediatamente per Napoli e quindi partire per l'India, dove era all'epoca missionario. Aveva dei giorni liberi ed insieme ad altri confratelli venne qui a San Giovanni Rotondo per fare una visita a Padre Pio. Però Padre Magliacani, parlando poco prima con Padre Andrew Apostoli, con cui era venuto qui a San Giovanni Rotondo, gli disse, beh, senti Padre Andrew, io non sono molto convinto di questo Padre Pio. Pensava appunto che Padre Pio non fosse una cosa genuina, credeva appunto nell'opposto. E quando si incontrarono però, ebbe quindi un incontro con Padre Pio, Padre Pio gli disse, caro Padre Luigi ti devo dire una cosa, tu non tornerai mai più in India. Lui doveva partire qualche giorno dopo, tu non tornerai mai più in India. E Padre Luigi a quel punto, restette qui una giornata, continuò a stare qui e si fermò anche per il pranzo. Durante il pranzo successe qualcosa di straordinario. Proprio qui a San Giovanni Rotondo squillò il telefono, la telefonata arrivava dal Vaticano, da Roma, dalla Congregazione della Propagazione per la Fede. Volevano parlare proprio con Padre Luigi Magliacani. Egli andò al telefono, gli fu detto di non mettersi sulla nave che doveva andare in India, ma di tornare immediatamente a Roma, per avere un'udienza proprio con Papa Pio XII. Lui di corsa tornò verso Roma, il Papa quando lo vide, disse, Padre Luigi, voi siete stato scelto per aprire una nuova missione in Arabia. Padre Luigi tutto entusiasta, replicò, sua santità io sapevo già di questa nomina. E il Papa, così meravigliato, disse a Padre Luigi, come mai? Perché soltanto il capo della congregazione e il superiore generale dei Cappuccini sapevano quello che gli stava dicendo. E Padre Luigi rispose, sua santità me lo ha detto Padre Pio, proprio qualche giorno fa, quando ero a San Giovanni Rotondo. E quando mi misi in viaggio per andare a trovarlo, io credevo che fosse un pazzo, un matto. Adesso capisco perché Padre Pio è un grande santo. Padre Pio è un grande santo. Padre Pio è un grande santo. Padre Pio è un grande santo.